Regà, è successo. Ebbene sì, dopo due anni del canale, abbiamo cambiato fotoprofilo. Ho deciso questa decisione perché era arrivata l'ora. Perché quella fotoprofilo di prima, certo, potevo anche rimanermela, ma tutto prima o poi ha una fine. Come quella foto ha avuto un inizio, quella foto ha avuto una fine. Effettivamente il suo momento era arrivato di cambiarmela. Io già da mesi mi stavo dicendo, ma perché non la cambio, perché non la cambio? Ed eccoci qui, l'ho cambiata. Il canale ho messo anche i nuovi banner, spero che vi piaccia. E regà, io veramente non so che dirvi. Se non, grazie di tutto quello che voi mi avete fatto. Dopo anche tutto questo tempo, mi state veramente un botto supportando. Le mie live fanno tipo sulle 150 mesi in poi, oppure 100 in poi. non è una importanza. Comunque, regà, veramente vi ringrazio di tutto quanto, di tutto quello che mi avete fatto. Quindi, regà, questo video è durato pochissimo, sì, lo so, ma dovevo farlo perché, regà, io lo decido faccio e foccio, mi do dedicato alla fotoprofilo. Perché da due anni che la tengo e dopo tanto tempo l'ho levata. Quindi, un like di supporto, iscrizione con campanella, condividete il video, mi raccomando. E' nulla dei ragazzi. Ci sentiamo qui, stasera il live. Ciao, regà.